Aspetta, aspetta, che intervengo. Ok. Posso intervenire, Luca? Vai, intervieni, intervieni. Puoi fare anche un commento tipo documentario. Vorrei fare una foto più da vicino. Io sto cercando di fargli una foto alla pezza. Senta che lei mi morda, giustamente. Ehi, il flash ripeto, il flash lo spiagno completamente alla foto. Ma guarda che bello, guarda che bello. Ma guarda che bello.